Yamme, yamme, un conte yamme ya, yamme, yamme, un conte yamme ya, ti do un bacino, uno schiaffin, ti do un bacino, uno schiaffin, hey! Yamme un conte ya, e io ti do un bel bacin! Popolo di Youtube, io sono Mustang Guitarista con Conte! Che finalmente il signor Conte batte una big in campionato! Com'è? Come abbiamo fatto a vincere? Siamo stati bravissimi, il mio 3-5-2 funzionando la berbezzione! Ma che cazzo dici che abbiamo avuto un culo vergognoso in dieci uomini? Ci hanno dominato, non riuscivi neanche a difendere! Conte, non esageriamo adesso, eh! Diciamo le cose come stanno, abbiamo avuto fortuna stavolta, eh! Ci è andata bene! Partita noiosissima, finché non la sblocchiamo! Napoli stava facendo meglio di noi, nonostante la partita fosse noiosa! La sblocchiamo con questo episodio, secondo me! È passato un episodio e dopo la partita si è attivata e come! Napoli dopo in dieci, poi con l'espulsione di Insigne, ha proprio dominato in dieci contro undici! Conte cambia anche modulo e qua io in realtà ero anche contento! Però non puoi mettermi Sensi esterno-sinistro! Mettimi Perisic che gioca nel suo ruolo, no? E invece lui ha lasciato Sensi esterno-sinistro! Poi anche Hakimi, io non ho capito perché l'hai fatto entrare! Stava male! Poi ha giocato anche di merda quel poco che è entrato! Caro Conte! Abbiamo vinto però, guarda che mi hai fatto soffrire da matti, come sempre! Tutte le vittorie sono una sofferenza! Fino alla fine, che siano rimonte! Che siano va in vantaggio e la gestisci! Che sofferenza, oh, che sofferenza! Per non prendere gol, tra l'altro non abbiamo preso gol! Ma che sofferenza nel finale, mamma mia, oh! Mamma mia, la partita che era noiosissima! E poi dopo tutto un tratto è diventato un vortice di emozioni! Cioè questo labbra che può prendere il palo con Pettani! Entra Politano fa quello che cazzo vuole! Conte l'hai mandato via te, Politano, eh! Ti faccio notare questa cosa! Guarda che giocatore che è! L'hai mandato via! Oggi ritorniamo a parlare di Politano dopo tanto tempo! Ragazzi, Politano è un bel giocatore! Io non capisco perché l'abbiamo mandato via! A me piaceva un sacco Politano! Era veramente forte! Guarda, oggi è entrato! Cioè ha dato veramente una scossa al Napoli! Probabilmente è anche entrato subito dopo il nostro gol! Cioè ha dato veramente una scossa! Il Napoli da quella parte aveva giocato benissimo, secondo me! Eh ragazzi, cioè... Allora io sono un interista onesto! Io dico quello che vedo! E il Napoli ha fatto un partitone! Ha fatto veramente un partitone col cuore! Noi! Io anche... Era giusto difendersi! E io... Il cambio là di Lautaro! Era giusto! Magari mettere gente nel suo ruolo! Magari conto! E non adattare sensi esterno o sinistro di centrocampo! Ma metti la gente nel suo ruolo! Era giusto, secondo me! Era tipo stile del derby che abbiamo vinto l'anno scorso! 2-0! Che a un certo punto lui aveva tolto Lautaro, mi sembra! E ha messo... Quel 5-4-1 Milano era più passato! Aveva fatto solo un'azione, mi ricordo! E poi non aveva fatto niente! Oggi non ci siamo riusciti! Non ci siamo riusciti! Scringer oggi ha fatto anche una bella partita! Però... Bevrai e Bastoni oggi veramente! Cioè erano sempre sorpresi! E si facevano infilare! Infatti io non gli do mica sufficiente! Nonostante non abbiamo subito io non gli do la sufficienza! Gli do un 5 a tutti e due! Vuoi vedere che sono stati veramente schifosi oggi in difesa! Conte! Ma... Sistema la sta difesa! Poi... Oggi il piano B non si è visto! Non si è visto il piano B tutti avanti alla cazzo! Ma forse non ce n'era bisogno! Il mio 3-5-2 è troppo forte! Non serve più il piano B! 3-5-2 forever! 3-5-2 my love! No! Cosa parli anche in inglese giusto? Sei stato al Chelsea, Conte! Va bene, dai! Chi è un uomo partita per me? Chi è? Ma è Andanovic ragazzi! L'ho criticato un sacco in questo periodo! Andanovic è il mio uomo partita! Andanovic! 7-5 Andanovic! 7-5! Abbiamo fatto due parate decisive! Poi anche parate meno decisive! Tipo là il tiro di Di Lorenzo! Finalmente Andanovic torna a essere decisivo! Alleluia! Era là che lo aspettavo! Quando cazzo Andanovic farà una gran parata? Finalmente decisivo! Quanto decisivo! E sta due parate della Madonna! Quella su Politano ragazzi! Poi veramente tanta roglia! L'ha trattata una fucilata! L'ha presa! Ma veramente tanta roba oggi andando! Mi dicevo! Un partita per lui e Lukaku invece do solo un 6-5! Vi dico già! Perché ha fatto una partita scandalosa! Secondo me è stato il peggioro in campo in assoluto! Però segna il rigore! Quindi gli do 6-5 ragazzi! Sono molto contento! Quindi sono contento! Come al solito ho perso anni di vita! Perché qua il signorino non mi sistema la difesa! Mi cambi modulo ma ovviamente mi tira gente fuori ruolo! Non sistemi la difesa! Fammi un piano! Cioè un piano B devi farmelo anche per difendere! Questo tu lo chiami piano B! Questo è un piano per farsi arare! Non è un piano B caro Conte! Vabbè comunque passiamo al tuo voto! Così dopo ci salutiamo! 5-6 più per Conte scusate! 6 più! Non posso dargli... È vero hai battuto una big Conte! Lo so guarda ti faccio anche una carezza! Però... Non lo so! Io non sono convinto ragazzi! Più di 6 più non ti posso dare Conte! Non mi hai convinto del tutto! E mi dispiace perché io non vedevo l'ora di battere una big! Però vabbè pazienza! Comunque sono contento! Guarda! Dico ai milanisti che stiamo arrivando! Abbiamo solo un punticino misero di differenza! Agli Juventini dico di osservare bene il nostro posteriore! E con questa perla di saggezza del posteriore vi saluto! Vi invito sempre a iscrivervi al mio canale se volete! Se volete mettete mi piace! Seguitemi anche su Instagram! Sempre Forza Inter! Ciao!